Ciao a tutti ragazzi, buon riuscito a voluto per l'audio 7 e siamo finalmente sulla Admet Cartumnance, come vi ho promesso ve l'ho portato ed ecco qua, ragazzi, prossimamente possiamo, vedi? Vra fanno freddi e... ma allora, assipizia ragazzi, ho visto il video di Damco che vi lascio il link in descrizione, e... cazzo, lui è scatenato, ma allora non so che la fa, ma vediamo che la fa non le ho due, allora, ci ho provato prima, e... allora, con checka, con checka bisogna flessare, e... ecco qua, quindi... bisogna... 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 chiudere le porte... dunque, ragazzi, vedete insieme... bisogna... con il primo bisogna chiudere questa porta... ah... questo non lo sapevo... vediamo... vediamo se ha freddi nel culo, vediamo un po', ok... ok... ma se ha freddi nel culo... no... qua non c'è nessuno, ok... vedete qua... è tutto tutto tranquillo, qua... ma ho raffreddato la batteria... chissà... non neanche... vedete qua... ok... 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 vedete qua... se c'è malora... ma non c'è malora... ok... non l'avevo... da nessuna parte... ok... qua è tutto tranquillo, ragazzi... qua è tutto tranquillo... qua ciò non mi piace per niente... allora... ehm... he promised a Giulio non ciò non so...향braccio ce perdono... di nulli... ehm... qua è tranquillo... ee.... qua è tranquillo... è... grazie si avrei... Ah... grazie... Eh, c'è un po' già girato. Comunque, ragazzi, era tanto, io seguo questo gioco era tanto, seguo la promozione dell'uscita e lo seguo molto su Steam e poi tanti messaggi, tanti salto, non mi piace. È morta! È morta, sicuro! È nascì. Cattimo non capire da fanno... Ah, Freddy, grazie. Ehm, come farò lasciare il legno? Aspetta il fatto, ragazzi, che io non riscavere l'ora, perché guardate, ragazzi. Porca miseria! Bisogna vedere come si fa con questa roba, perché non si capisce niente quale sono con quella cosa lì. Comunque, direi di iniziare mettendo una cosa più abbastanza. Ehm... Qua... Mettiamo front and force. Qua... Ok... 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 Qua è tranquillo. Per forza ho messo front and force solo. Ok, vediamo un po'. 3 arm... 3 sono... Le 12 arm... Mamma mia! Ho qualcosa là di fronte! Che cavolo! Comunque... Ragazzi... Oh... Ecco... Ok... Ok, ragazzi. Qua ce la possiamo fare. Ok... Qua... Uh... C'è un pappacallino! Guarda... No, 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 no! Grazie! Mi favore, grazie! No... Ok... Ti taglio ad occhio qualche forse, eh? Ti taglio ad occhio! Comunque... Sono qua... Ok! Ehm... Sulle due! Boh... Non sapete niente quel coso! Ah! Ok... Ok... Questa... Non vediamo! Chiar! Che posso fare per te? Ok... 1% Ok, grazie! Quattro am... Quattro am... Non vedem sa pelu! Quattro am.. Fuach! 한وف che avre... Forse! Fure... A... Netto... Che senator... ... Non posso muerci con la posta. Bene, che mette, adesso si. Che ero prima? Che ero prima? Che ero prima di questa stagione per tutti noi. Ehm... Comunque, ragazzi... Ehm... Possiamo ven... No, 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 no. Meglio che non ven. Forse fu un po' correndo proprio a quello della challenge. Ecco. Sono loro. Fendi. Ecco che fendi, poi... Ah! È il fine che fa un casino. Ecco. Non è vero. Poi... Cosa fossi? No, no, no. Lo so... Lo so Freddy. E poi... C'è lui. Martin Freddy. Ok. Ok. Qua sono tutte le challenge. Ok, ragazzi. Qua sono tutte le challenge. Ok, vediamo tutte qua. Non ho visto nessuna notte per ora. C'è qualcosa si coglie. Comunque... Adesso... A presto. Ci vediamo al prossimo... A questo momento. E... Ciao, ragazzi. Ehm... Grazie a tutti.